questa sera facciamo un bel giro per roma di notte degustazione poi il centro di roma questa è una parte della gombricola tra poco ci uniremo agli altri eccoci arrivati alla prima sosta di alzato il copolo sì sì la del popolo e che è tutta sta gente castel sant'angelo no Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.